Aspetta Luciano, te ne vai così Luciano, ho ancora 5 minuti. Come faccio? Sono già in ritardo. Io ho la mia disciplina, cosa credo? Non si può mica... Quant'è? 4 mila. Ammazza. Sì ragionevole Anna, dovevi accompagnarmi soltanto alla stazione, e poi tappa a tappa sei arrivata fino a qua. Non vorrei accompagnarmi anche dal colonnello, no? Bene, è rimasto, te vedi che zanchi! Ehi, maresciallo! Vedi, vedi, mi aspetta, non bisogna che vada, tesoro. Ma aspetta? Sì, no, stai tranquilla, ci rivedremo prestissimo, te l'assicuro, no? Un momento solo! Non ci credo, lo so che non ci vedremo più. Ecco, riaccompagna la signora alla stazione. Ciao, 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 ciao. Sì, sì, no, no, no. Scrivimi almeno. Sì, tanti, tanti, tanti. Ciao, tanti, ciao! Eccomi qua! Signor tenente, come sta, dove andate? Agli alloggiamenti, monti su, si presenterà domattina al colonnello. Agli orte di maresciallo! Andiamo! Scrivimi, mi raccomando, ricordatelo! Sì, stasera, stasera stessa! Sì, stasera, stasera! Sì, stasera, stasera, stasera! Grazie a tutti